Si è parlato di PNRR e sfide per i comuni abruzzesi nel momento di approfondimento organizzata all'emiciclo dalla Fondazione Formiche, iniziativa pensata per stimolare una riflessione, avanzare delle proposte su come fronteggiare con successo l'attuazione del PNRR, ma non solo. I comuni abruzzesi sono più di 300 e di questi solo 50 hanno una popolazione superiore a 5.000 abitanti. In questo contesto negli ultimi dieci anni il territorio ha perso un terzo del personale pubblico in servizio senza ricambio generazionale. Di fatti il 67% dei dipendenti locali ha più di 50 anni, eppure gli enti territoriali sono esposti oggi ad una grande prova, svariate centinaia di milioni da spendere tra PNRR e piani complementari, applicazione della nuova disciplina del codice dei contratti pubblici, adozione obbligatoria del piano integrato di attività e organizzazione, completamento della ricostruzione post-sisma. In questo senso la regione Abruzzo ha fatto tanto, spiega il presidente Marco Marsilio. Nel FESR, nei fondi europei, noi abbiamo inserito una missione che si chiama Hub delle competenze, con la quale stiamo sostenendo la capacità amministrativa delle amministrazioni comunali, mettendo a disposizione consulenti, tecnici, momenti di formazione, piattaforme. Abbiamo costruito e rilanciato in questi anni degli strumenti, come Abruzzo Progetti per la parte delle progettazioni tecniche, o la stessa agenzia della committenza, la Ex-Aric, oggi Areacom, che sono a disposizione per supplire proprio alle carenze strutturali e fisiologiche che hanno le piccole e piccolissime amministrazioni. Questo convegno di oggi, in collaborazione con la Fondazione Formiche, mette in campo anche le migliori competenze di tante realtà dello Stato, del Parastato, che sono qui proprio per costruire con i comuni in momento di confronto e di crescita.